Sono emerse luci e ombre dall'ispezione di una delegazione dei radicali che oggi ha visitato il carcere di Bicocca, Catania. Sono 191 i detenuti presenti e il numero nei prossimi giorni è destinato a salire con la ripresa dei processi, su 138 previsti nella struttura di Contrada, Pantano d'Arci. Permane il grave problema dell'insufficienza di riscaldamenti, anche se il direttore Giovanni Rizza ha assicurato che entro marzo il problema sarà risolto. Abbiamo trovato una situazione migliore rispetto a quattro anni fa quando effettuavamo una visita con Rita Bernardini. Per esempio è stato abbattuto, e questo è molto importante, il muretto divisorio nella sala colloqui. Quindi adesso i familiari possono incontrare i loro parenti detenuti attorno a un tavolo. Permangono serie criticità sul fronte del sovraffollamento, della carenza di agenti di polizia penitenziaria, il fronte del riscaldamento, perché abbiamo un inverno mite, però nei giorni freddi si soffre parecchio all'interno. Poi c'è un reparto, un intero padiglione, che ancora non è a norma perché ha le docce esterne alla cella e questo è in contrasto con il regolamento penitenziario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.